buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di minecraft un po di tempo fa ok un botto di tempo fa vi avevo promesso che avrei portato un tutorial su come postare gli fps con optifine ed oggi siamo qui per mettere alla prova questa mod vi ricordo campanellina iscrizione e un bel like se volete supportarmi intanto bellissima questa shaders e questa texture che danno un effetto 3d alla terra ea tutti i blocchi iniziamo levando ovviamente shaders e texture opac siamo anche in 1.20 quindi la versione più recente e più pesante di questo gioco ma che perché ci sono tutti quei lama lì vabbè non ci interessa bene ora che abbiamo generato tutti i chunk possiamo andare a vedere che facciamo una media di 120 fps fissi questo perché minecraft base vi porta un limite quindi illimitiamoli e vediamo come va 150 170 abbastanza fissi qui andiamo anche oltre i 200 ma perché un'area più aperta e meno vasta da renderizzare cominciamo a tenere la render a chunk abbastanza bassi perché sennò vedete che andando a ritoccare i chunk subito gli fps si sono alzati un casino siamo arrivati da una media di 200 a una media di 700 a volte a una media di 400 e anche 700 dipende se rimango fisso in un punto salgono molto bene continuiamo con il tutorial la prossima cosa che andremo a ritoccare sono le impostazioni base di grafica quindi past entity shadow dynamic fove lo potete lasciare attivato non c'entra nulla la luce dinamica la luce smoothing light non so come si dica in italiano mettiamola a zero e queste sono le impostazioni base di minecraft vediamo se qualcosa è cambiato ovviamente sì di resa grafica cambiato molto ma la media degli fps si aggira sempre lì anzi forse si è aumentata abbastanza di una cinquantina ora cominciamo ad andare nei dettagli ea disabilitare tutto quello che si può alberi fast il cielo lo togliamo sole luna stessa cosa il bobbing non c'entra quindi lo potete lasciare vignette su fast alternative block no sono color li togliamo il fog non c'entra questi sono i mantelli della optifine quindi questo qua dietro che ho io togliamo le stelle togliamo anche pioggia e neve togliamo la bayon blend e anche le entità continuiamo e togliamo tutte le animazioni e in più andiamo ad abilitare una cosa che si chiama smooth fps che dovrebbe tenerli più stabili vediamo se migliorano oppure no peggiorano molto perché rendendoli più stabili va ad abbassarli quindi la toglieremo non è cambiato molto però abbiamo aumentato ancora un pochettino gli fps passati da 750 800 850 quindi anche un centinaio in più chiaro che tutti questi fps su minecraft sono inutili però sapete anche voi che è molto figo ad averli e quindi a tanti piacerà vedere questi numeri altissimi ovviamente possiamo andare anche a 1700 guardando in alto ma non è che cambi nulla comunque andiamo a modificare ancora qualcos'altro abbassiamo i chunk fino a 12 e vediamo cosa cambia eh cambia tantissimo diciamo che abbiamo aumentato di 500 anzi di 400 i nostri fps però questa cosa non servirà a niente anche se 12 chunk sono comunque molti cioè hai una visuale abbastanza grande chiaro che possiamo ad abbassarli chiaro che possiamo andare ad abbassarli ancora però sotto un certo numero non vedrete più niente quindi non ha senso andare ad abbassare ad esempio sotto agli 8 cioè 8 cominciate a non vedere quasi più niente però a ognuno piace come volete sì abbiamo aumentato di altri 200 300 fps ma che cambia cosa ce ne frega a noi di averne così tanti qui è solo un tutorial per chi ne fa veramente pochi quindi magari io che ai miei tempi utilizzavo un mac per registrare un portatile che su minecraft gira con gli schiaffi al culo e lì magari raggiungevo i 60 i 70 ma se vai sotto i 100 fps su minecraft se ti sembra sempre di laggare quindi sempre meglio star sopra ovviamente dobbiamo ancora andare a rifinire la qualità perché la qualità non l'abbiamo ancora toccata quindi mip map lo mettiamo off togliamo l'entità random togliamo la snow togliamo i colori custom le texture custom item e custom gui sono delle texture quindi se avete ad esempio una texture pack che vi cambia il colore di questo menu potete lasciarlo abilitato fav effects sono sempre gli effetti di quando si corre quindi questa cosa che quando io cammino sono così e quando corro si vedete che si sposta leggermente il tipo di visuale mentre custom entity stessa cosa custom sky lo togliamo connected texture è molto importante toglierlo perché è importante toglierlo perché sono i blocchi di terra completamente connessi diventano tutti verdi custom font lo possiamo togliere better grass anche e emissive texture andiamo a dare un'occhiata su cosa è cambiato sapete che effettivamente non mi dispiacciono nemmeno gli alberi così non sono così brutti eravamo a 1500 ora siamo più o meno sempre a 1500 però più stabili di prima beh direi che giocare a minecraft così non è bruttissimo finché non si mettono delle texture pack che vanno a ridurre troppo si può ancora giocare ah non abbiamo tolto la simulation distance però non credo cambi molto andiamo a cambiare l'ultima impostazione a vedere se con 6 chunk cambia qualcosa sono letteralmente una visione minima quindi non vedremo praticamente niente però diciamo che abbiamo aumentato ancora di una centinaio gli fps di un centinaio abbastanza scarauso però va bene così andiamo a provare i due chunk che sono la distanza minima di minecraft quindi non vedremo nulla wow sono tantissimi fps quasi 2000 anzi in verità credo che se guardo il cielo per qualche secondo ai 2000 ci arrivo in un attimo e invece no forse guardando per terra no oltre a un fps boost oggi vi voglio far vedere alcune cose carine della optifine quindi andiamo a rimettere normale questo schifo di mondo sapete che andando a modificare solo la render dei chunk comunque si ha un grande fps boost cioè più o meno quello che facciamo è lo stesso quindi potresti semplicemente andare a ritoccare i chunk però non credo che abbia molto senso comunque preferisco gli alberi di adesso di quelli di prima si non mi dispiacevano però sono meglio questi vi ricordate vi ricordate la texture e le shaders che vi ho fatto vedere prima? bene le texture le potete mettere anche normalmente su minecraft e si trovano in option resource pack ora sono rosse perché sono tutte per la versione 1.19 ma non ci importa mentre c'è una nuova sezione che vi comparirà oltre a tutte queste qua che potete vedere che è la sezione shaders se voi aprite shaders folder potete andare ad inserire dei pacchetti che scaricherete da internet come ad esempio una shaders normalissima che vi consiglio è sildurs oppure complementary che sono molto belle voi le cercate le andate a scaricare sul loro sito su file poi potete scegliere la versione una volta che le avete scaricate le inserite dentro questa cartella e potrete andare a sceglierle a me piacciono veramente tanto le soft voxel sono molto carine però sono anche abbastanza pesanti oh che sta succedendo? ah giusto queste shaders hanno bisogno di una mod speciale per essere utilizzate quindi utilizzeremo come vi ho detto prima le complementary così ve le faccio anche vedere ed eccole qua molto carine hanno un buon numero di fps stabili chiaro avete una scheda video potente e ne farete di più però anche con delle impostazioni riuscite a fare anche una media di 100-150 fps secondo me il mondo di minecraft con questo tipo di shaders è molto molto bello anzi io vi direi facciamo un giretto anche nel nether per vedere com'è visto che non ho voglia di fare un portale faremo in questo modo voilà beh il portale sicuramente è bellissimo e anche gli effetti del legno del nether è bellissimo anche i funghi la luce molto molto bello sapete che forse prima o poi potrei fare un video di dove vi mostro tanti tipi di shaders diversi ecco il bioma blu quello che volevo andare a vedere è bellissimo soprattutto il legno non so perché fa così però è una cosa bellissima questo è il nether di minecraft con queste shaders se volevate vederlo ora lo sapete giusto che ci giusto per andiamo anche a vedere l'end magari cambia qualcosa wow il cielo è bellissimo il drago cosa ci fa qua non c'è più un drago bene abbiamo finito minecraft in due secondi a parte gli scherzi secondo me gli effetti più belli sono quelli di riflesso e del cielo sono molto molto carini via luo rieccoci tornati nel mondo normale come vi dicevo cambiano molte cose con le shaders anche gli effetti delle onde del mare e soprattutto sott'acqua a volte si vede meglio a volte si vede peggio in questo caso si vede molto molto bene prima di andare vi faccio vedere un'ultima shaders che è una delle mie preferite nonché quella che avevo prima all'inizio del nostro video secondo me questa è una delle più belle ma anche una delle più pesanti l'acqua è qualcosa di spettacolare sia sottra che sotto sotto è qualcosa di bellissimo soprattutto guardando in alto perché è un po' strana questa cosa non so perché faccia così quando guardate perfettamente in cima però se spostate leggermente la testa guardate com'è bello il cielo sembra una terra al contrario soprattutto le nuvole si creano grazie alla shaders non è una texture pack di minecraft è molto bella questa cosa i riflessi sono molto molto carini vi consiglio di utilizzare comunque una scheda video abbastanza potente se volete utilizzare questo tipo di grafica infatti il tutorial di oggi era semplicemente come gustare gli fps non come mettere queste cose ma ho voluto farvi vedere qualche chicca in più che magari può essere utile anche per chi ha voluto solo guardare questo video come informazione quindi spero vi sia piaciuto vi sia stato utile presto arriverà un altro tutorial con una mod molto molto carina che vi permetterà di utilizzare le shaders ma questa volta di utilizzare con un numero di fps che sarà abominevole sarà altissimo quindi preparatevi e vi dico già che reggerà tutte le versioni anche le più potenti noi ci vediamo presto con un nuovo video vi ricordo che alle 20 e 30 spesso siamo in live con la vanilla e niente se questo video è uscito di mercoledì o di sabato sappiate che ogni mercoledì e ogni sabato alle 15 esce un nuovo video a presto